Ho rivolto un appello forte, una lettera formale alle autorità scolastiche e alle autorità sanitarie per chi mi diano dati rassicuranti sulla tenuta delle strutture sanitarie di fronte all'aumento del contagio con riferimento anche alla percentuale di contagi nelle scuole. In attesa di questi dati che ho sollecitato ovviamente ho il dovere di dire che il lunedì laddove non arrivasse dati rassicuranti da parte delle autorità responsabili adotterò responsabilmente una mia determinazione lasciando alle polemiche, alle discussioni inutili e pericolose l'opportunità o meno di tenere aperte le scuole. Non possiamo mettere a rischio i bambini che frequentano le scuole, soprattutto il sindaco, non può consentirsi di tacere di fronte a questo atteggiamento di rifiuto di assumersi di responsabilità da parte delle autorità sanitarie che continuano ancora a non fornire dati certi con riferimento alla tenuta delle strutture sanitarie nella città di Palermo come nell'intera regione siciliana.